Western Isle, la regione diffonde il nuovo bollettino con numeri purtroppo in crescita. 15 nuovi casi questa settimana, 189 in tutto finora senza contare i casi probabili, ma non ancora confermati che sono in tutto 97, ai quali si aggiungono 32 casi riferibili a infezioni asintomatiche, donatori di sangue o situazioni ancora non classificabili. Il piano di intervento di disinfestazione straordinaria ha già toccato l'80% dei comuni nelle province più colpite, Padova, Rovigo e Verona. Poi sarà la volta delle restanti. Le prossime settimane, annuncia l'assessore Coletto, proseguiranno le attività anche nelle province di Treviso, Venezia e Vicenza. I decessi ad oggi registrati in Veneto sono 13.